Sono Sabrina Lastrucci e sono la proprietaria di Lecce e Brocchi. Dal 1970 mio padre ha venduto il vino in cisterna fino all'anno 2010. Nel 2012 l'azienda viene in mano a me, passa in mano a me, e con mio marito Giancarlo e mio figlio Giovanni abbiamo deciso di valorizzare il nostro prodotto. E quindi il primo agosto del 2012 è nata la prima bottiglia di Lecce e Brocchi. L'ha detta in mano mio padre e scattai la prima foto della bottiglia. Lecce e Brocchi per me è tutto, il cuore, il ricordo di quando mio padre mi portava in cantina e mi faceva assaggiare il vino, l'assaggiavino, e mi diceva senti Sabrina, senti queste vini, che vino ci danno. e per me è importante trasmettere questa mia sensazione, questo mio sentimento, perché comunque il vino è passione, è amore, è lavoro, è soddisfazione, è raccontare, raccontare la storia, la storia di una famiglia che lavora costantemente e fa diciamo del proprio lavoro un'emozione, un prodotto che una volta portato sulle tavole racconta appunto proprio di un territorio.